1869 inaugurato il canale di Suez 1973 Atene gli studenti insorgono contro i regime militare 1989 Praga inizia la rivoluzione di Velluto commenta il fatto del giorno Luigi Vicinanza direttore di Il Tirreno l'attacco di Piranhur rappresenterà una svolta nella seconda guerra mondiale provocherà l'intervento militare degli Stati Uniti e nel Pacifico e in Europa